Arte contemporanea e scene nella suggestiva cornice di Villa Paris a Roseto. Dal 17 luglio al 25 settembre la tumultuosa vitalità della creazione artistica del mosaico aprirà le porte ad amanti dell'arte e neofiti. L'obiettivo è enfatizzare l'importanza dell'arte contemporanea nel nostro territorio lavorando appunto con questa tecnica d'arte in realtà antica ma che si è sviluppata ed è diventata anch'essa moderna, contemporanea che è il mosaico e quindi quest'anno Art in Acti, il festival appunto nato in Villa Paris ospita questa internazionale di mosaico Musiva che appunto ci farà vedere cosa i maestri a livello internazionale oggi riescono a produrre nell'arte contemporanea. Grandi maestri si susseguiranno nel corso della mostra che ha come obiettivo primario quello di affascinare e coinvolgere i non esperti per trasmettere la magia e le atmosfere che solo l'arte sa raccontare senza parole. La testa Musiva nel periodo bizantino non era altro che un tramite fra il divino e lo spettatore raccogliendo quel po' di luce e lo ritrasmetteva all'interno della chiesa e c'era questo collegamento concettuale fra la divinità e il fruitore e questo praticamente è un po' il meccanismo mentale con cui cerchiamo di fare arte portando nei luoghi diffusi, approcciandoci con i grandi maestri e nelle tecniche e nel modo tale che questo non venga preso come arte applicata, come è tutt'oggi considerata ma un'espressione vera e propria, antica e molto valida di un concetto artistico che ha effettivamente una concettualità, un essere oggi molto più importante di alcuni discorsi, di alcune filosofie per cui possiamo andare veramente a dialogare.